Mario Schiavi è la prima volta che partecipa ad una collettiva, ad un evento organizzato dalla Via degli Ampisti, perché è nuovo nuovo per noi, ma non è nuovo nuovo come attività. Io sono un vittorio, mi definisco dilettante da circa 50 anni. Le due opere sono due periodi diversi, separati da 35 anni di sosta. Allora, il primo è il periodo operaistico, l'otto belai, eccetera, e abbiamo il povero Cristo messo in croce, una massa di gente che cerca di lottare e l'omino che sta qui dietro ridicolato, aperto, ma non esce e dorme. Io l'ho intitolato il sacrificio, la lotta e l'indifferenza. Invece il profano della russa? Il profano della russa è una serata a San Pellegrino. Riconoscibissimo. Quasi riconosce. E qui c'è poco da dire, insomma, è cambiato il sistema, è pittura d'olio su tela e questo è il panpasta, gessetti in matine colorate sul cartoncino.